Il protagonista della storia del giornalismo e dell'informazione italiana, un grande innovatore che ha cambiato il modo di essere della televisione e che soprattutto ha avvicinato la televisione a un grande pubblico popolare anche su temi complessi e difficili. Sappiamo che si è speso anche contro la mafia così come si è speso contro il terrorismo in nome di principi democratici che hanno sempre percorso la sua vita e la sua professione di giornalista.